Si chiama Jane Slater, è una giovane giornalista molto famosa negli Stati Uniti d'America, la quale vive a Dallas e pensate che questa donna avrebbe scoperto che il fidanzato l'avrebbe tradita grazie al Fitbit, il bellissimo smartwatch pensato per andare a monitorare l'attività fisica di un essere umano. Il racconto nei social è diventato virale in tutto il pianeta. Elle stessa l'aveva raccontato la vicenda, il fidanzato di allora l'aveva regato un Fitbit per Natale, la coppia ha deciso di sincronizzare i due dispositivi per andarsi a motivare in maniera avvicendevole nel momento di fare attività fisica. L'ora di strano se non fosse che per una notte la reporter ha scoperto per caso il tradimento, ed ecco che ci è rimasta non poco male, anzi malissimo. Vi ringrazio per l'ascolto gentili utenti di YouTube, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, datemi le vostre opinioni, ci tengono da averle. Un caro saluto a voi, al prossimo video da narratore italiano di YouTube Italia.